E dopo che lavoravano, si trovavano fermi davanti a questo castello. A un certo punto, Brad Majors, Janet Wise e Liliana, che era lì, che andava a fare la spesa all'essere non un grande pezzo, capitava, poi la farò vedere un giorno, poi ce la farà vedere anche Janet Wise. Adesso, dicevo, pensavano che la fortuna finalmente gli avesse sorriso, pensavano che la situazione fosse cambiata, pensavano che finalmente potevano dire di essere salvi. O no? A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. No? No, 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 no. Yo is like it, I'm like it, my love is like it. No! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti